Salvatore, grandissima sorpresa, ci ritroviamo qui per la manifestazione, lo sciopero delle telecomunicazioni della Wilp, il settore e mi trovo con il grande Mauro Pollini e abbiamo Francesco e Niciello Barbara Ecco qui, allora noi facciamo un saluto intanto a tutti i fan con noi che seguono, a Mauro Pollini, salutiamoli Ciao e ovviamente a tutti gli amici delle telecomunicazioni e abbiamo una sorpresa che se la merita Mauro Pollini Buona mattina del Salvatore, ciao, grande sorpresa, ciao